L'associazione Amici Ricercatori della Storia di Marostica si è costituita il 25 ottobre del 2003 con scopi storico-culturali, unita dalla passione per la grande guerra e per la montagna. Un'attività svolta con passione per tramandare ai più giovani un patrimonio di immenso valore morale con uno scopo preciso, niente di quelle vicende che rappresentano un capitolo importante della nostra storia sia dimenticato ma diventi per tutti una lezione di vita. Una cosa importante per noi è far toccare la storia con le mani ai ragazzi e soprattutto ai giovani, agli studenti e cosa c'è di meglio che portarli sui campi di battaglia a rivivere le sofferenze che hanno passato i nostri soldati in quel periodo là. Non c'è modo migliore. Come non c'è modo migliore di far toccare loro tutti questi oggetti che vengono recuperati con amore, vengono puliti, vengono sistemati in modo che la loro vita non sia conclusa ma continuino a rendere visibile quel tratto di sofferenza e quello scopo per il quale sono stati realizzati. Noi avremo un sogno che è quello di realizzare un museo della Grande Guerra Marostica. Potrebbe essere uno spazio museale vivo, uno spazio culturale nel quale ci possono fare delle mostre ma non soltanto. Potrebbe essere uno spazio dove gli appassionati e gli storici possono ritrovarsi per condividere la loro passione. Certo è che se ci sono delle proposte benvengano e noi siamo disponibili a discuterne.